E benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale Questo è il primo video di una serie su PC Buildings Emulator E siamo con Brainerdust Ciao raga E ora iniziamo Seguitelo su Youtube Brainerdust 7 e pure su Instagram Lascerò tutto scritto nella descrizione Questo gioco è molto bello Anche perché la qualità prezzo è molto buona Ok iniziamo Allora rimuovi il virus Allora raga colleghiamo i fili Ok Questo è il primo video come ho già detto Poi ci sarà il secondo video Più avanti Ne faremo anche molti altri sicuramente Poi faremo anche delle live Quindi rimanete aggiornati sul nostro canale Su tutti i canali Che facciamo delle live su Fortnite Eccetera Poi su tutti i canali Ci saranno delle piccole serie Poi non sappiamo gli episodi Vanno ancora programmarle Noi giocheremo a tre giochi a caso per l'episodio L'episodio consisterà nel prendere tre giochi a caso nella nostra raccolta E giocarmi se da voi Faremo anche altri video Infatti noi abbiamo già scelto un gioco Che è a modi arcade Molto bello Vi lasciamo col dubbio di qual è E porteremo un video O una live Poi vedremo Esatto Poi decideremo Ok Facciamo lo scanner Ok Cancelliamo i file Ok Ora il computer Place in the Ok Lo dobbiamo mettere qui Dice E andare su Email Discord Colle Ok raga I nostri primi 100 dollari Giocherò anche off camera raga Quindi se vedete che saremo più avanti e così Perché giocherò off camera Ok Ora andiamo a portare avanti i giorni Prossimo giorno Ok Teams redote repair Ok Sono arrivate tre email raga Allora Accettiamo Accettiamo Di togliere i virus Vediamo Poi c'è Rimuovere i virus Ok Lo stanno mandando E Mettere Mortoni Ok Andiamo a schifare il giorno Domani Domani Ecco qua i tre computer Vediamo Quello Questo Prendiamo questo raga Appoggiamolo Compriamo Cos'è che serve Install mortoni Install mortoni Ed store Ok Come vedete qua da qui comprate tutti i pezzi Allora Mortoni Ed store Ed store Allora Cerchiamo Mortoni Ok Ed store Ed store 500 gigabyte Lo vuole da 500 500 Eccolo 50 80 30 20 30 Di spedizioni Vabbè Vabbè Tanto poi c'è di dare al cliente quindi Rimuoviamo le parti Questo cliente qui che stai facendo E poi l'altro Rimuoviamo tutte le parti Nel primo episodio ci sarà Unbrainer Dust Poi in alcuni sarò anche da solo Esatto Ok Puliamo il computer ora Poi Sempre sui nostri canali Su questo video game Eh Potremmo fare anche dei piccoli video sulla creativa Dove creiamo i nostri pc da sogno no? E magari Così Creiamo i nostri pc da sogno Per descriverci voi quale pc creare E' vero raga Questo gioco è anche in collaborazione con molte marche Come intel Eh HP Acer Nvidia Razer Infatti Come potete vedere Nella copertina c'è il computer della laser Ora colleghiamo i cavi Off camera andrò avanti raga Anche perchè sennò viene un po' noiosa questa serie Per oggi In questo video faremo i Questi tre computer E poi andremo avanti nel prossimo Nel prossimo video Che uscirà Una volta Un giorno si un giorno no uscirà un video raga Quindi mi raccomando E rimontiamo il pc Ok Anche il parco Quindi Lo sto solo rimontando Parte davanti Ah no i virus li togliere Sì sì Prima Togliamo Cioè prima mettiamo Tutto a posto Ok Ora Intanto raga togliamo la musichetta Che dà fastidio Ok A posto Ok Ora Installiamo Poi qua cos'è che c'è? Devo applicare Te lo dico Cosa devo applicare? Non hai applicato la musica bassa Ah sì sì l'ho messo Allora non hai fatto app Lo messo lo messo Ok ora scannerizziamo Quello della Mortoni l'abbiamo ordinato raga arriverà domani Vedete? Ok Poi da ordinare c'è anche Poi da ordinare c'è anche Sin geforce Ah la scheda video da gamer raga Che costa un sacco Mi sembra 200 dollari Anche secondo me Cos'era? Shin gtx Sì 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 Cerca Ok Deve essere qua Gtx No Eccola 970 970 Eccola qua Qua i virus hanno finito Quindi anche questo computer è fatto Mettiamo qua Quindi Ci serve una monotone Che è questa Che è questa 265 dollari Quant'è che era 7,50? 9,70 Ok Con 200 dollari Eh non ho messo due, non ho messo due per sbaglio Ah ok Sembra 275 raga Vendi l'altro computer che almeno ti mando i soldi Ora Vendiamo Il prossimo computer Ok Qua a posto abbiamo finito questa Vendiamoci 100 dollari raga Ok Poi andando avanti con i livelli Andando avanti con i livelli Compreremo queste scrivanie E anche l'armadio per mettere i computer Per fare più computer alle secondi Diciamo Infatti Comunque invece di andare Diciamo nel corridoio E fare tutti i viaggi Vi avrai subito di tronco Io direi di fare il prossimo Vi farai le bollette il giorno Della scheda madre Lo so lo so Io direi di fare questo computer E poi E poi gli altri di farli nel prossimo video Quindi mi raccomando mettete like e commentate Per mandare avanti questa serie Dobbiamo installare L'Earthstone Mortoni Allora Mi raccomando raga Rimanete attivi su tutti i canali Perché magari Se vorremmo Potremmo fare delle serie Sui giochi Casuali Casualissimi Come vogliamo fare La serie di giochi a casa Da solito Farla volendo anche In due O addirittura Farla solito in due In due Faremo quelli che si possa giocare online Raga cercheremo i giochi Più scrausi possibili Esatto Io ne ho già un po' divertenti Poi non so se li hai Si si ce li ho Ho capito Ok raga Rimontiamo la parte davanti Proviamo il pc Ah non ho messo i cavi aspettate eh Allora mettiamogli i cavi Uno qua Qua Ok raga Completiamolo Allora davvero manca un pezzo Manca questo pezzo Qua sopra Questo gioco è anche molto istruttivo Più che anche divertente Mi raccomando Se volete acquistarlo Si chiama PC Building Simulator E lo trovate a 17 euro Se non mi sbaglio E 99 Sul Il 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 gioco è appena uscito In Fase completa Perché prima era solo una beta Quindi mi raccomando Acquistatelo che vi daranno Anche dei Delle cose in più Ecco bravo dei bonus Nella modalità creativa Che farò vedere Che farò vedere Nel Terzo episodio Raga Giocheremo in creativa Mi raccomando Ora Il pc è pronto Mi raccomando Raga lunedì sul mio canale uscirà Il primo video di PC Building Simulator Lo vendiamo Vendiamo questo pc raga Certo No no non è questo Ho sbagliato È questo No È questo Ok raga Per questo video è tutto Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un like E un commento Condividete il video Iscrivetevi ai nostri canali E Bella